ok allora iniziamo adesso a vedere un altro esercizio che è un tema d'esame ok dico iniziamo perché chiaramente non riusciremo a finirlo entro oggi tema d'esame completo così cominciamo a abituarci alla struttura dei temi d'esame e che già alle ultime laboratorie abbiamo tratto il testo esattamente da dei pezzi di tema d'esame adesso lo cominciamo a vedere uno completo perché abbiamo già tutte le informazioni in realtà avete già tutte le nozioni per fare praticamente tutti gli esami perché c'è solo più una lezione sui cammini minimi diciamo così come argomento in più ma per il resto tutto ciò che dovete sapere all'esame l'abbiamo già trattato allora questo tenesame parla di migrazioni allora cosa abbiamo? abbiamo un database che contiene un elenco di nazioni e informazioni sulla contiguità tra nazioni cioè sui confini alla fine è una versione particolare di una cartina geografica in cui ho un concetto di contiguità che dice che un certo stato è contiguo cioè confina con un altro stato poi questa cosa qui lo sono riuscito a trovarla questa informazione lo sono riuscito a trovarla solamente in un dataset che si chiamava così The Correlation of War che è un sito che racconta dal punto di vista storico anche l'evoluzione dei confini delle nazioni eccetera dicendo con attenzione che i confini non sono statici come li vediamo oggi ma cambiano in continuazione quindi da quell'anno a quell'anno quei due stati confinavano da quell'anno a quell'altro anno uno stato è diviso in due quindi quello vecchio non esiste più, quello nuovo esiste eccetera eccetera quindi sono informazioni che sono legate anche a un'informazione di anno cioè in quell'anno o in quegli anni quegli stati confinavano e in quegli altri anni no quindi è un pochino più complicato rispetto a quello che ci serve però il testo poi ci aiuta a estrarre l'informazione che vogliamo la tabella country riporta tutte le nazioni definite, definite database in cui ciascuna nazion è identificata da un numero che è country code da un'abbreviazione univocal di tre lettere che è state abbreviation e dal nome completo, state name poi ho una tabella contiguity che rappresenta per ogni coppia di stati stato 1, stato 2, con due chiavi esterne che puntano sulla chiave primaria dell'altra tabella il fatto se tali stati fossero confinanti o no a partire da questo anno year i tipi di confine sono diversi questo campo qua, cont type, sta per contiguity type il tipo di contiguità diceva io considero se sono due stati il cui confine è un fiume il cui confine è un fiume li considero confinanti o no? boh, sì, è solo un fiume e se fosse un lago? un lago di largo 2 km? largo 20 km? un braccio di mare? quindi c'è una nozione di confine che noi non diremo mai che la Gran Bretagna confina con l'Islanda però se la Sicilia fosse una nazione diversa diremo tranquillamente che confina con la Calabria probabilmente quindi c'è un concetto di contiguità che dipende, è interpretabile allora questo qua è identificato da questo campo nell'esercizio ti dice guarda, considera solamente contiguity type uguale a 1 cioè via terra terra o fiumiciatolo essenzialmente quindi non considera bracci di mare di una certa dimensione poi nel database c'è un'altra tabella che si chiama contiguity 226 ma ci dice di ignorarla quindi guardiamo solo queste due tabelle ok su questo database cosa dobbiamo fare? costruiamo un'applicazione JavaFX che permette di interrogare tra le basi dati e restituire informazioni utili all'analisi di flussi migratori tra gli stati e poi in pratica ti dice cosa fare punto 1 punto 1 normalmente è la creazione di un grafo a partire dal database e qualche operazione di interrogazione sul grafo punto 1 permette all'utente di specificare un anno di interesse X qua che lo chiama X tramite questa casella di testo o menu o tendina qui ti lascia la scelta se lo vuoi implementare con una serie di testo in cui l'utente scrive l'anno e poi ovviamente devi controllare che sia un numero che l'anno ci sia oppure fare un piccolo lavoro preliminare di andarti a vedere quali sono gli anni presenti nel database e popolarti la tendina e di richiedere il calcolo dei confini cioè questo bottone qua calcola confini una volta che l'utente clicca su calcola confini ovviamente validiamo questo dato sull'anno creare un grafo che rappresenti la situazione dei confini mondiali via terra fino all'anno X specificato dall'utente le relazioni di confine via terra da considerare sono tutte quelle in cui il campo IR sia minore o uguale a X all'anno specificato perché ricordiamoci che il database dice da questa data in avanti succede una certa cosa quindi se noi vogliamo vedere i confini precedenti dobbiamo eliminare tutto quello che avviene dopo i vertici del grafo rappresentano le nazioni per le quali esiste un confine via terra nell'arco di tempo risultante e gli archi devono rappresentare il fatto che due nazioni hanno confinato via terra in quel periodo gli archi in questo caso sono archi non orientati e non pesati non orientati perché se A confina con B B confina con A e non c'è un peso perché i confini c'è o non c'è c'è sono o non sono diecenti ok? una volta che ho fatto questo grafo dove attenzione un dettaglio che i vertici del grafo devono rappresentare le nazioni per le quali esiste un confine quindi non devono rappresentare tutte le nazioni ma solo quelle che hanno almeno un confine l'Islanda di prima ce la siamo giocata perché non hanno mai avuto confini per la sua natura geografica però ci sono anche delle nazioni che magari sono state create dopo l'anno di interesse e che quindi nell'anno che ci interessa non erano elencate tra i confini perché non esistevano banalmente quindi vogliamo evitare nel grafo di avere dei vertici isolati delle nazioni per le quali non c'è nessun confine ok? quindi questo è un vincolo in più che dobbiamo poi pensare come gestire alla fine quello che devo fare è stampare l'elenco degli stati indicando quindi dei noti dei vertici del grafo indicando per ciascuno il numero di stati confinanti secondo il grafo creato questa è una frase che potrai leggere stampare l'elenco dei vertici del grafo e il grado di connettività di ciascuno di questi vertici l'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti cioè ti devi fare un sort e vabbè questo è il primo punto poi il punto 2 leggiamo solo all'inizio ci dice di simulare la diffusione di una serie di persone mille immigrati che vengono inseriti che brutta parola in uno stato iniziale selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo e che si spostano tra gli stati cioè dopo che ho costruito il grafo e quindi stampo qua l'informazione sul grafo popolerò questa tendina in azione con tutte le nazioni che sono effettivamente nel grafo l'utente ne può scegliere una e cliccare su simula allora il simulatore cosa fa? cosa deve fare la simulazione? prende mille persone e le mette nello stato selezionato dall'utente e poi simula le immigrazioni di queste persone in cui dice al tempo iniziale tutti i mille immigrati sono nel stato iniziale poi ogni volta che degli immigrati al primo passo oppure agli altri passi entrano in uno stato ipotizziamo che si dividono in due 50% rimangono stanziali in quello stato alla fine abitano lì decidono di fermarsi lì 50% invece decide di spostarsi in uno stato confinante la popolazione non stanziale quindi quelle che si spostano si dividono in parti uguali tra tutti gli stati confinanti quindi se in questo stato ha due stati confinanti il 50% che si sposta andrà a 25 di qua e 25 di là se una nazione ha quattro stati confinanti allora il 50% degli immigrati rimane l'altro 50% si dividerà in quattro parti uguali 12,5 12,5 12,5 12,5 e andranno si sposteranno nei quattro stati confinanti ovviamente quando si sposta in uno stato confinante il ragionamento riparte da questo stato perché dal punto di vista di quello stato sono arrivate persone metà rimarranno e l'altra metà si dividerà a sua volta tra i confinanti tra i quali guarda caso quello da cui provenivano A confinante con B quindi una parte di quelli che arrivano in A si sposta in B poi mi sposto su B una parte rimarranno in B un'altra parte vanno sui confinanti e A è sicuramente tra questi e va bene tornano indietro vanno avanti e indietro ogni volta ovviamente il numero di persone che si sposta di mezza quindi prima o poi tutti si fermano visto che c'è un approssimato per difetto quindi quando alla fine ci rimane una persona sola si sposta e si ferma se ci sono due persone uno si ferma uno si sposta se ci sono tre persone due si fermano uno si sposta quindi ogni volta il numero di persone che si sposta si dimezza un pochino più che dimezza necessariamente arriviamo a zero e la simulazione si fermerà ad ogni passo di simulazione il numero di persone vabbè pertanto a un certo punto la simulazione si isolerà quando tutti saranno diventati istanziali che è quello che stavamo dicendo vabbè per fare questo però prima dobbiamo avere il grafo allora nel progetto che ho già condiviso che sarebbe il progetto base che vi trovereste all'esame ok all'esame vi trovate un progetto già fatto così con già inizializzato di solito la parte java effects che salvo piccoli tocchi di solito non dovete non dovete toccare per evitare di perdere tempo con la parte grafica ve l'avevamo già pronta il controller tipicamente vuoto beh in questo caso qua in realtà c'era qualcosa ho preso il progetto già finito scusatemi eh sì perché c'è già tutto ho preso la soluzione anziché il testo vabbè adesso cancelliamo le cose o facciamo finta di non vederle però vediamo essenzialmente un controller praticamente vuoto in cui non ci sono metodi che sono da implementare eventualmente vuoti e vedi che è vuoto e le classi principali del modello ok le classi principali del modello e poi di solito o vi specifichiamo un link oppure c'è una cartella come si chiama database dove dentro c'è la SQL per il database stesso che se per caso sul computer che usate non è ancora non è ancora importato lo potete importare direttamente sul momento non adesso caro quindi vediamo se c'è il database countries io qua ce l'avevo già dove ci sono queste tabelle di cui dicevamo prima country che ha l'elenco delle nazioni e contiguity che ha l'elenco dei confini potenziali vedete che contiguity type ha vari valori a noi interessa solamente l'uno Haiti e Repubblica Dominicana confinano via terra ad esempio quindi qua se non sbaglio la parte di calcolo di confini del punto 1 è già implementato per semplicità poi se volete potete reimplementarvelo quindi è già troviamo già implementata la parte di creazione del grafo con le query e popolare la tendina con l'elenco degli stati che ci sono manca la parte sulla simulazione perché siamo l'oggetto dell'esercizio che vogliamo fare ok infatti al bottone simula non fa nulla se vogliamo solo dare un'occhiata ovviamente l'esame non ve lo trovate già fatto il punto 1 lo dovete fare voi ma adesso la creazione del grafo c'è una query che mi dà i vertici che hanno almeno una contiguità durante l'anno e aggiungo i vertici al grafo e poi in questo caso li metti dentro una mappa non ricordo bene perché e poi gli archi ho un'altra query che dato un anno mi dà tutte le coppie di vertici che devo collegare e poi per ciascuna vado ad aggiungere un arco usando la mappa per fare il passaggio dall'id all'oggetto è stato implementato così la query diceva dammi tutte le country in cui ci sia almeno ho fatto una query annidata in cui ci sia almeno uno stato che ha una contiguità di tipo 1 con lui con questa country e poi c'è l'altra query sulla coppia dei vertici che è più semplice dammi la coppia dei vertici in cui l'anno è minore di quello specificato che è il vincolo che dobbiamo fare la contiguità 1 e poi ho questo vincolo di asimmetria codice 1 minore codice 2 per evitare di avere due volte la stessa informazione poiché il database è simmetrico è inutile prendere due volte gli archi me li faccio dare una volta sola e mi dà questo oggetto di accenza che contiene gli identificatori dei due stati come interi abbastanza classica la parte di creazione di questo grafo e poi c'era la parte un pochino più noiosa che era quella di prendere le nazioni e il numero gli archi i vertici e il grado di questi vertici e mettere in un oggetto ordinare questo oggetto per avere la stampa ordinata essenzialmente questo era il primo punto che nelle nostre stime dovrebbe impegnare circa un terzo del tempo dell'esame o poco più nel senso che di solito se uno è allenato a fare gli esercizi ai laboratori sono cose abbastanza standard ogni appello ha le sue peculiarità ovviamente però c'è stato costruito un grafo alla fine quindi scegliere che tipo di cui rifare che tipo di oggetti creare c'è un po' di codici da scrivere chiaramente poi devi aggiungere pezzi a controllare le validazioni eccetera ma è tutto abbastanza diciamo fila abbastanza liscia non dovrebbe crearvi troppi pensieri e quindi passiamo al punto 2 cioè andiamo a costruire un simulatore che prende essenzialmente l'informazione sul grafo e e simuli diciamo quel fenomeno quindi ci possiamo costruire una classe simulatore anzi fatemi scusate faccio solo un visto che finora non ho ancora modificato nulla crea crea un branch soluzione punto 2 così li teniamo separati allora mi creo nel modello una nuova classe simulatore come abbiamo fatto prima questa volta non abbiamo il test del simulatore ma avremo il model che richiama il simulatore stesso allora il simulatore cos'ha? deve simulare quelle migrazioni che dicevamo prima quindi lo stato di questo sistema cioè le informazioni che devo dare su questo sistema quali sono? beh da un lato dovrò avere il grafo ovviamente che vi dice quali sono le nazioni quali sono i confini e quindi nello stato del sistema avrò sicuramente il mio grafo adesso l'avevo chiamato grafo grafo graf di questo tipo qua che vabbè mi verrà passato dal model chiaramente qui devo importare un po' di roba ok e poi ho bisogno di sapere per ciascuna nazione quanti abitanti sono stanziali in quella nazione alla fine forse non abbiamo letto il testo fino alla fine devo stampare per ogni stato in cui si vi sia almeno una persona stanziale stampare il nome dello stato e il numero di persone presenti c'è la fine di quei mille dove sono andati a finire dove si sono fermati ok quindi ho bisogno di questa informazione che sarà come la memorizzo per ogni nazione ho bisogno di un numero potrebbe essere una mappa una map che come chiave a country e come valore a integer stanziali mentre invece quelle che si stanno ancora spostando non li fotografo qua sono in transito e quindi li vedrò negli eventi essenzialmente le variabili i parametri della simulazione che cosa sono? allora c'è il numero di persone che vado a simulare che era nel testo era chiamato mille se vogliamo possiamo definirlo come costante numero di persone uguale mille scusa? è una costante di fatto si lo possiamo anche mettere dai parametri di fatto è qualcosa che noi riceviamo queste due sono si forse è più senso metterlo qua sono degli input che riceviamo dall'esterno non li modificheremo mai si e lo stato di partenza lo stato di partenza si è un dato che ci arriva quindi private country partenza ok? l'output da calcolare è questo no sono due cose ti dice il numero di passi di simulazione fatti e l'elenco degli stati con le relative popolazioni quindi il numero in output in più ci sarà il numero di passi e questo è anche output e output e poi abbiamo la nostra cara coda degli eventi che ovviamente per creare dobbiamo capire qual è il tipo di evento una classe evento allora ci creiamo una classe evento allora tre campi tempo tipo e altri valori il tempo com'è misurato in questa simulazione non è misurato né in giorni né in secondi né in minuti è misurato in passi in passaggi nel testo parla genericamente di passi di simulazione al passo t al passo t più uno e così via quindi abbiamo un numero si chiamiamolo pure time ma è un numero intero che si incrementa senza nessuna relazione con un tempo vero quindi private int chiamiamolo time per ricordarcelo è semplicemente un numero intero che si incrementa non è espresso né in minuti né in altro ma in passi di simulazione mi ricorda i livelli della visita in ampiezza livello n più uno si calcola a partire dal livello precedente poi il tipo di evento allora quanti tipi di eventi ho in questo caso a me pare che ce ne sia uno solo cioè l'ingresso di persone nello stato ingresso in uno stato l'elaborazione dell'evento ingresso aggiorna le popolazioni eccetera eccetera e genera a sua volta una certa serie di altri eventi ingresso non mi sembra il caso di fare un evento ingresso con un'uscita perché poi l'uscita non farebbe altro che rigenerare un ingresso immediatamente dopo con gli stessi valori quindi in questo caso il tipo di evento se è uno solo non lo rappresento nemmeno ok tipo di evento ingresso e lo lascio sottointeso non mi serve definire l'event type o altro quando ho un tipo di evento solo e se l'evento è ingresso quale informazione ci è associata all'ingresso di un gruppo di persone in una nazione e l'ho detto in questa frase la nazione verso cui entrano e il numero di persone che stanno entrando private country destinazione e private int dimensione del gruppo di persone vabbè poi ci servono i metodi per far vivere questo oggetto che sono il costruttore che sono i getter abbiamo già capito che siamo in una cosa prioritaria quindi meglio lasciare le robe immutabili lasciamo perdere il setter un toString per riuscire a vedere qualcosa e il comparatore finalmente sul tempo quindi implements comparable di event e lo facciamo implementare semplicemente visto che il time è un intero faremo this.time meno other.time quindi facile e facile abbiamo un tipo solo di evento quindi sarà anche poi facile la simulazione quindi a questo punto possiamo avendo definito la classe event possiamo definire l'oggetto coda private priority queue di event queue costruttore della classe simulatore allora cosa gli passiamo al costruttore il grafo e la nazione di partenza sono due informazioni che devono arrivare da fuori partenza e grafo poi il 1000 per ora è una costante gestiamola come costante quindi potrebbe essere quindi potrebbe essere sicuramente il grafo graf la roba qua e la count di partenza quindi nel costruttore mi salvo il grafo mi salvo la count di partenza e inizializzo un po' di roba inizializzo il numero di passi uguale a 0 inizializzo il numero di persone va bene è una costante non la devo toccare stanziali la devo creare quindi stanziali uguale new hash map country integer vuota hash map la devo importare eccolo qua verifico solo che country ma si no l'ho messa nel grafo e quindi sicuramente ha già l'hash code equals altrimenti non l'avrei potuto inserire nel grafo come vertice e questa mappa adesso è vuota dalla fine dovrà contare il numero di persone stanziali quindi ogni volta che delle persone si muovono in uno stato questo valore dovrà diventare diverso da 0 allora io posso dire parto da una mappa vuota quindi quando ho un ingresso vado a verificare se c'è già l'allamento nella mappa se non lo creo oppure per comodità del codice che viene dopo posso già creare la tutta di 0 tanto le country so quali sono quindi posso già prepararmi in questa mappa tutte le country con uguale 0 stanziali così nel codice in cui dovrò andare a incrementare il numero di stanziali non devo andare a fare la lift per vedere l'elemento c'è non c'è se non c'è devo crearlo altrimenti devo incrementarlo potrebbe essere una piccola semplificazione per dopo quindi per ogni country che sta nel grafo perché l'elenco delle country dove ce l'ho ce l'ho nel grafo this.graph.vertexset mettiamo non add vertex vertexset mettiamo nella mappa sostanziali add put con chiave country il valore 0 e poi mi rimane ancora inizializzare l'ultima variabile che è la coda this.q uguale new priority q vuota ok quindi il model a un certo punto creerà il simulatore con queste informazioni e poi potremmo pensare direttamente nel metodo run l'inizializzazione è talmente banale del tipo genera un evento solo che potrei fare direttamente nel run non è il caso di avere se vogliamo dai tanto seguiamo il solito schema private void initialize e l'inizializzazione della simulazione è molto semplice in questo caso carico l'evento di ingresso iniziale delle mille persone nello stato di partenza this.q .add new event un evento che al tempo al passo 0 il secondo parametro di event era non mi ricordo in che ordine li ho messi il secondo parametro la destinazione quindi tipo di evento sottointeso ingresso destinazione dove nella città di partenza numero di persone mille o un seme di un primo evento di ingresso nella coda questo primo evento a cascata ne genererà molti molti tanti quanti sono i suoi stati adiacenti quindi private void run sarà sempre lo stesso while not this.q .isempti event è uguale this.q .pol estraggo l'evento e poi non ho lo switch sul tipo di evento perché il tipo di evento è uno solo di questo evento so qual è la country destinazione per comodità mia mi estraggo i pezzi dell'evento mi estraggo il tempo e mi estraggo il numero di persone solo per comodità mia del codice successivo allora a questo punto cosa dirò dirò che dimensione diviso 2 diventano stanziali dove nello stato destinazione e poi gli altri i rimanenti si dividono negli stati adiacenti e quindi generano eventi ingresso col numero con la quota di persone quindi nel primo caso dimensione diviso 2 diventano stanziali lavoro sulla mappa stanziali aggiornandola nell'altro caso devo interrogare il grafo per sapere quanti sono gli indecenti e quali sono dividere le persone e farle spostare dobbiamo solo fare attenzione che qui siamo dobbiamo fare attenzione a non perdere persone e quindi non possiamo questa divisione farla come numero reale e soprattutto queste divisioni qua si dividono in stati adiacenti magari sono 7 questi stati adiacenti non posso avere 3.174 persone allora andiamo a vedere bene il testo cosa ci dice il testo ci dice 50% di interstanziale il rimanente 50% approssimato per difetto rimane non stanziale quindi se il numero di persone come mille è pari dividiamo esattamente il 50% se no i non stanziali sono la metà meno 1 ok ma poi quando devo dividerli la popolazione non stanziale si sposta e si divide in parti uguali approssimate a loro volta per difetto quindi cosa capita che se io ho 40 persone non stanziali quindi arrivano da un gruppo di 80 o di 81 e si dividono in 3 stati vengono fuori 13 persone per stato 13 per 3 però fa solo 39 e quindi rimane una persona che è rimasta fuori dalla divisione allora il testo mi dice questa persona diventa stanziale allora forse facciamo prima fare il conto inverso nel senso che prima calcolo quelli che si dividono tra gli stati diacenti e generano degli eventi di ingresso i rimanenti così andiamo a mettere tutti i resti tutti quelli che non ho spostato negli stati diventano automaticamente stanziali perché come è scritto nel testo sembra che io calcolo gli stanziali prima all'inizio e poi magari ci aggiungo dei resti che ho trovato dopo allora se facciamo prima il calcolo dei numeri approssimati per difetto quello che resta sarà approssimato per eccesso e lo mettiamo negli stati diacenti vado a fare per sapere quanti sono quindi per cosa dividere andrò a calcolare il grado del vertice destinazione l'account di destinazione qual è il suo grado quanti diacenti hai e quali sono vado a vedere i neighbor del determinato nodo per andare a generare i vari eventi mi tengo conto di quanti ne deposito nei vari eventi e la differenza rispetto alla dimensione iniziale la incremento semplicemente alla mappa degli stanziali ok quindi questo è il nostro piano di lavoro che completeremo la volta prossima non ci manca molto sono poche istruzioni da aggiungere qua ma poi bisogna ancora agganciare questo al modello e il modello il controller quindi c'è ancora un po' di codice da scrivere non tantissimo ma non ce la facciamo nei 5 minuti che ci rimangono quindi io mi fermerei qua che comunque ho punto fermo se non ci sono domande se non ci sono domande allora vi lascio alla pausa prima delle lezioni successive grazie 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 grazie